Facciamo. Giornata di incontri abruzzesi per il direttore generale dell'Agenzia del Demanio che sta facendo il punto sui progetti di riutilizzo del patrimonio degli edifici pubblici dismessi. L'Abruzzo prima della classe per quanto riguarda il federalismo demaniale e la regione italiana che sta lavorando meglio con trasferimenti che si avvicinano al 90%. A dirlo, erogiando il lavoro svolto dall'Agenzia del Demanio abruzzese e dagli enti locali, è il direttore generale dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi che attraverso due incontri a Pescara con il governatore Luciano D'Alfonso e con i sindaci fa il punto sull'operazione di ottimizzazione degli immobili dello Stato puntando sul federalismo culturale e sulle opportunità del decreto sblocca Italia che consente di agevolare l'utilizzo di beni in disuso da parte di associazioni ed enti privati per varie attività consentendo così agli enti pubblici di ridurre i costi di gestione. Noi abbiamo come Stato purtroppo ancora 915 milioni di euro che paghiamo in affitti passivi e abbiamo degli immobili vuoti, nostri, di proprietà quindi l'utilizzo ottimale dei nostri immobili è il primo obiettivo e lo facciamo insieme ai sindaci, insieme agli enti territoriali che a loro volta sono impegnati a fare operazioni di risparmio e poi siamo impegnati insieme a loro a valorizzare al meglio i beni che non sono più strategici che possono essere quindi venduti, possono essere visti come progetti di valorizzazione con investimenti pubblici o pubblico privato oppure addirittura possono essere dati in concessione a privati. Sono state inoltrate 271 richieste di attribuzione da parte degli enti territoriali avruzzesi e con la razionalizzazione degli spazi e degli uffici e l'uso efficiente del patrimonio immobiliare pubblico i piani di razionalizzazione 2014-2019 delle quattro province porteranno ad un risparmio di oltre 2 milioni di euro. Tra i punti all'ordine del giorno delle due riunioni l'operazione Federal Building a Chieti il protocollo d'intesa delle caserme rossi e di Amici San L'Aquila la valorizzazione dell'ex caserma Pace di Sulmone dell'ex convento di San Domenico a Popoli.